questa? andiamo dai prendi in giù la donelle dio caro fai schifo dio caro brava che menti benissimo paola sono fiero di te fuori va lavorato giusto va lavorato lei è la bambina che non si non sta in casa con gli altri bimbi c'è la mestra speciale lei mobili cappone mi ha fatto due adesso gli esce la spalla eccola lì subito tesa fatta sfrutta il muoio non si può ricevere di lato sta palla povera Nicole come mi dispiace è troppo bassa e qui non c'è infatti io l'ho dupeso anch'io ma si spetta oh dovrei troppo contro si adesso all'agri basta vero? si e no più che altro stacca la retta vai io dentro non ti muovi eh non già fai neanche aria a muoverti indietro infatti non è fai la palla aperta questa non usi le gambe è fuori già da si vai vai non me la fa la stronzetta vai dai devo tenere alta io apri e quello sei a fuori comunque riga si riga a fuori apri apri no stai muovendo mentre arci apri 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 fuori fuori c'è non di lato di colma mannaggia a te e salta staccato la retta apri bella bella vai apri continua a stare su un piede solo bisogna aprire la palla e mi spingi ad andare avanti col corpo io quando mi ha dato non è se non è se non è si stacca a fare ora ma io apri Stai ancora andando lontano. 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 io lo so che è perché non è il femorale per questo il salto è lungo 3 passi rincorso rapido salto verticale non come fai no l'hai chiamata io ci ho fermato non con le braccia non con le braccia non con le braccia Buon la rete! 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 il pallone è giusto lei che riceve ci mette 40 lui che dice la terezza ma vaffanculo no scusate ho raccordato però beh fuori 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 sono poco alte ho fuori di esagerare quindi tiriamo fuori perfetto no no ecco la questa deve buttare c'è? sotto la palla brutta stronza qua schifo qui 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 perché non ci sei ancora qua qui 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 perché non ci sei ancora qua io intanto faccio una parola dentro dentro cambio cambio sacco di fesce che batte io dai palla palla si auto 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 chiacchierona chiacchierona mi dico Grazie. 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 Palloni e caldo di qua. Palloni? No, ne manca uno. Infatti servono i palloni di qua perché ne manca uno. Manca quella che passeggia per fare il corsa d'attacco e saltare lungo senza saltare. Che mi fa le righe in campo strusciando i piedi. Chiameremo la pantofolaia. Devo concentrare sulla mia pocket. Ok. Non ho preso niente perché sono in forma olimpica. Io ho passato l'orario di mangiare. Farò degli American Pusha per farmi passare la fame. Grazie. Un po' vicino. Ok, un meno fame adesso. Fuori. se lontana la rete sembri Nicole bella stai con le gambe basse andate più indietro in realtà sarebbe meglio tra le altre cose troppo distante la rete non ti prepari bene in corso d'attacco bella schifo io no me la sono tratta dosso perché mi avvicino che bella stracciata qua sono tratta da parte non si tratta da parte non si tratta da parte ma ma si non bello Grazie a tutti 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 Grazie a tutti